Buongiorno, il Vangelo di Matteo di questa ventunesima Domenica del Tempo Ordinario, dal capitolo 16, versetti dal 13 al 20, ci propone la conosciuta professione di fede di Pietro verso Gesù, il quale interroga i suoi su chi pensi la gente che gli sia e poi, andando direttamente al loro cuore, alla loro esperienza, chiede a ciascuno chi essi dicono che Gesù sia. Domanda che richiama anche a noi la consapevolezza di essere davanti a qualcuno che ci provoca, ci interpella, ci chiede una relazione. Gesù vuole entrare in un rapporto intimo con i discepoli e noi siamo fra loro. Di fronte a questa chiamata, che è anche invocazione e desiderio da parte di Dio attraverso Gesù di essere in rapporto con le sue creature, ecco che ci troviamo in una dinamica di reciproca rivelazione. Lo Spirito del Padre infatti suggerisce a Simone, il pescatore di Galilea, di poter riconoscere in Gesù di Nazareth, il carpentiere, colui che è Messia e figlio del Dio vivente. Dunque Simone consegna a Gesù, proprio nel rapporto di intimità e di amicizia che si va creando tra loro, la verità su se stesso. E questo mette Gesù nelle condizioni di restituire a Simone una vocazione, di consegnargli la propria verità su se stesso. È Gesù infatti che chiama l'uomo suo amico Pietro ed è su questa pietra che egli fonderà la chiesa. Simone Pietro quindi, un uomo semplice, umile, un lavoratore, un peccatore che commetterà un grosso peccato nel rinnegare il maestro e amico eppur tuttavia nelle sue fragilità e debolezze viene scelto da Gesù ad essere capo e segno di unità per la comunità dei cristiani. Ecco quindi che viene rivelato a Simone, che diventa Pietro, il proprio mandato, quella che è la missione su questa terra per il bene dell'umanità e come lui i suoi successori, i papi, punto di riferimento, richiamo visibile dell'unità di cui abbiamo bisogno per essere fedeli a Dio. Accanto a Simone Pietro, a tutti noi viene data la vocazione di partecipare della famiglia dei figli e delle figlie di Dio. La chiesa è questo, è germe, è inizio, è seme che realizza su questa terra quello che il Signore vuole per tutta l'umanità. Chiesa vuol dire assemblea convocata, c'è dunque una chiamata gratuita da parte del Padre e c'è una risposta che possiamo dare per partecipare come membri attivi e responsabili dell'unica comunità che attorno alla mensa dell'Eucaristia continua la missione del Figlio di Dio su questa terra per la salvezza di tutti gli uomini. Rivelato il volto di Gesù, rivelata la vocazione di Simon Pietro e rivelata anche la nostra chiamata. Meravigliosa consegna che Dio fa per amore gratuito a ciascuno di essere protagonisti attivi nella straordinaria missione di salvezza da portare fino agli estremi confini del mondo, perché tutti, senza esclusione, entrino a far parte della famiglia dei figli di Dio. Buona Domenica.